Non ce l'ha fatta il linguista Luca Serianni, investito lo scorso 18 luglio da un'auto a Ostia, vicino Roma, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'ex docente della Sapienza si è spento alle 9,30 di oggi, 21 luglio. A rendere nota la triste notizia è la famiglia che ringrazia tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato il loro affetto. I familiari e gli amici esprimono la loro personale gratitudine al personale sanitario dell'ospedale San Camillo di Roma. Serianni, 74 anni, dopo essere stato travolto dall'auto, era stato trasportato prima all'ospedale Grassi di Ostia e poi, alla luce delle gravi condizioni, trasferito al San Camillo di Roma, dove era arrivato già in coma. È stata accertata la morte cerebrale per il linguista, comunicata dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. La direzione dell'azienda ospedaliera San Camillo mi ha appena comunicato l'esito piatto dell'elettroencefalogramma del professore Luca Serianni. È una notizia che mi addolora ed esprimo il cordoglio ai familiari che ieri hanno avuto un incontro con i medici e la direzione dell'ospedale. Purtroppo le condizioni del professore Serianni sono apparse subito molto gravi, ha commentato D'Amato. Serianni era vicepresidente della società Dante Alighieri. Aveva insegnato per quasi 40 anni all'Università Sapienza di Roma, dal 1980 al 2017. È considerato uno dei più influenti studiosi di storia della lingua italiana. Il linguista è socio dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Ti ringrazio per aver guardato tutto il video se ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale, e attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato nei prossimi video grazie.